La passione tra Andrea e Federica Uomini e donne, diretta puntata del 15 marzo, scatta la passione tra Andrea e Federica Venerdì 15 marzo 2019 va in onda il secondo ed ultimo appuntamento settimanale del Trono Classico di Ued. Oggi, 15 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Classico di Uomini e donne, lultimo della settimana. Protagonisti della puntata di oggi saranno i due protagonisti Giulia e Andrea, oltre che a due ospiti speciali dopo la scelta dellultima edizione, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Uomini e donne, anticipazione puntata del Trono Classico. Durante la puntata di oggi si inizierà con il parlare di Angela. In settimana, la tronista ha deciso di non uscire con Davide. Tuttavia, un filmato mostrerà la sua esterna avvenuta con laltro corteggiatore, Luca. La nuova tronista, Giulia, invece, ha deciso di uscire con Manuel Ragazzo che, ha dichiarato, di conoscere da tre anni pur non sentendolo da molto tempo. Lesterna comunque prosegue talmente bene da far infuriare Angela. La ragazza, per sua dignità, consiglia al corteggiatore di dichiararsi per Giulia, vista lintesa. Questultimo, dal suo canto, dichiara di non sentirsi ancora motivato a dichiararsi. Laltro tronista, Andrea, esce invece con Federica e la loro reciproca attrazione si tramuterà in un bacio appassionato. Uomini e donne, tornano Ivan e Sonia. Dopo lo speciale della scelta di Ivan Gonzalez, durante la puntata di oggi il ragazzo sarà ospite insieme alla sua nuova fiamma, Sonia. La coppia si dichiarerà molto innamorata e che il loro rapporto, al di fuori del programma, prosegue a gonfie vele. .